buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del medio orienti dintorni show questa è l'ultima puntata del capitolo del penultimo capitolo del poema celeste finalmente ci siamo finalmente andiamo a vedere alcuni dei grandi personaggi della storia militare persiana adesso in particolare ci concentriamo su nadir shah afshari e ahmed shah durrani detto anche abdali ma partiamo subito con nadir ah vi ricordo che questa è la terza parte del capitolo ho scelto di dividerlo in tre perché c'erano troppi temi ed era troppo interessante affrontarli bene tutti la prima parte è su nice la seconda parte su dei sufi questa invece è la parte finale dedicata alle figure dei militari persiani detto questo andiamo avanti da nadir benvenuto elegante parlatore d'oriente a tu a cui si addice la lingua di persia siamo tuoi intimi confidenti dimmi il tuo segreto narrami quello che sai dell'iran eqbal dopo tanto tempo la persia ha infine aperto gli occhi su se stessa ma è ahimè caduta nel laccio di una rete e uccisa dalle moine di idoli sfacciati e graziosi lei che creò cultura imita ora l'europa sta vagando fra i concetti di monarchia e di razza non fa che menzionare il sapore e disprezzare gli arabi priva com'è della sua storia d'oggi priva com'è la sua storia d'oggi di gloriosi avvenimenti va in cerca di vita nella terra di vecchi sepolcri se c'è attaccato alla patria e abbandonato se stessa ha dato il cuore a rustam e lo ha stornato da ali accetta dall'europa immagini vane dall'europa apprende la sua stessa storia vecchio era già l'iran al tempo di yazdaghird il suo volto era privo di luce per la freddezza del suo sangue antica era la sua religione i suoi costumi il suo ornamento antichi erano i soli le stelle delle sue albe dei suoi tramonti nel fiasco della vigna non si vedeva l'ondeggiare del vino nessuna scintilla in forme mossa dalla sua polvere quando ecco che giunse dal deserto una chiamata finale che le diede nuova vita in tal modo la persia rimase mentre scomparsa la grande roma qui direi che è molto evidente quello che vuole fare mohammed al pal nel senso che sta semplicemente ricordando i propri fasti alla persia e facendogli notare tante cose tra cui come si sia proprio addormentata tra virgolette e questo diciamo espresso molto bene e onestamente io l'ho mandato mio amico persiano che tra l'altro vediamo forse in futuro fare anche quelle cose per il sito però non è detto e niente l'ho trovato bellissimo poi in realtà continua e attacca anche delle altre cose molto più arabe diciamo eccetera però effettivamente è bellissimo nel senso che noi non ci ricordiamo mai che i persiani quelli che noi leggiamo di alessandro magno di babilonesi tutte queste popolazioni per carità si sono modificate nel tempo e non sono quelle di tutto quel tempo fa però esistono i persiani la cultura persiana è la cultura che c'era quando c'era alessandro magno ed è una cultura che è molto più antica banalmente di quella greca è più o meno contemporanea di quella babilonese cioè c'è una famosa battuta che dice che quando gli svizzeri hanno inventato l'orologio cocuno e avevamo il rinascimento noi italiani ok oppure che mentre americani erano sugli alberi noi avevamo non so l'antica roma roba di questo genere che sono delle battute molto razziste secondo me è anche abbastanza stupide nel senso che cosa ti deve dire un persiano allora un persiano che probabilmente il luogo dove abita lui era abitato e quando l'uomo primitivo ha iniziato a scendere effettivamente dagli alberi ma non sai l'uomo primitivo di un certo paese no qualsiasi uomo primitivo cioè onestamente quando uno poi dice queste cose qui quando uno prova a staccare i due mondi è veramente oltre che piccola come cosa è folle perché buona parte anche di quello che mangiamo il banalmente le pesche questa buonissima parte di tutto il nostro sapere della nostra conoscenza sia diciamo quando poi sia prima che attecchisse sia quando non attecchita proviene dal diranno e questo è incredibile lui qua fa proprio un attacco deciso a spada tratta dicendo sostanzialmente che loro si sono dimenticati di se stessi loro sono a rincorrere non come i turchi che lui proprio lui atatürk lo odia per essere chiari dopo ci arriveremo fra poco però non a livello di atatürk però dice questi qua ormai si sono svenduti addirittura imparano dall'europa la sua la propria stessa storia e tra l'altro vorrei soffermare un attimo su questa piccola frase proprio soltanto su questo dall'europa prende la sua stessa storia perché il sito mio per essere chiari nato proprio per questo affinché i musulmani non debbano più andarsi a leggere la storia da gente che non ha il minimo interesse nell'apprezzare la propria cultura o comunque diciamo di parte o comunque ha giustamente perché ognuno pensa a modo suo delle idee diverse non è non parla la stessa lingua ok cioè si mette sempre da un punto di vista estraneo il sito nasce proprio per questo e poi ho trovato comunque bellissimo anche l'ultima parte che appunto in tal modo la persia rimase mentre è scomparsa la grande roma qua si riferisce al fatto che quando sono arrivati gli arabi poi questo amico persiano a cui gli ho sottoposto per essere chiari ad esempio ho detto no non è vero è una bugia però la verità è che quando gli arabi poi arrivano anche in persia danno effettivamente vita a una rivoluzione culturale incredibile e che riporta la persia se mai ci fosse stato bisogno ai gradini più alti della storia dell'umanità dell'ingegno della filosofia della poesia della letteratura della teologia non vi sto neanche qui a dire chiunque immaginatevi uno dei grandi filosofi eccetera del mondo arabo eccetera del medioevo e tutto 1 2 3 4 non vi preoccupate almeno almeno l'ottanta per cento almeno il 75 per cento di quelli che voi pensate in realtà non sono arabi sono persiani ed è stato un continuo quindi vabbè inutile per dire poi io personalmente devo dire che sono più fan di altre aree però c'è davanti alla persia forse solo l'egitto e la mesopotamia e la cina forse possono dire qualcosa ma già la grecia per carità la grecia ha portato idee incredibili e tutto che sono rimaste che sono state coltivate eccetera però non c'è paragone la persia è stata la persia fino a quando non sono arrivati i russi con i trattati quelli del caucaso eccetera cioè non c'è veramente paragone ma neanche con gli stessi russi vabbè poi finisce che se no faccio troppi elogio alla persia però ecco uno di quei paesi che veramente ne puoi paragonare due o tre al mondo forse e comunque non è detto che regano il confronto e poi mi sono dimenticato l'india l'altro vabbò andiamo avanti adesso se no oh persia 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 abdali limitazione dell'occidente ha portato fuori di sé l'oriente ora bisogna che questi popoli criticano l'occidente la forza dell'occidente non viene dalla musica moderna non dalla danza di fanciulle svelate non dal fascino di guance tulipano non dalle gambe nude né dai capelli corti la sua solidità non proviene dall'ateismo nella sua gloria dall'usare la scrittura latina la forza dell'europa è nella scienza e nella tecnica e da questo fuoco che si accende la sua lampada la saggezza non consiste nel tagliarsi corte le vesti il turbante non è un impedimento alle scienze dalle arti per la scienza e l'industria o grazioso giovane ci vuole il cervello non vestiti europei su queste vie non si richiede che l'acutezza di vista poco importa questa o quella forma di copricapo basterà che tu sei agile di pensiero basterà che tu abbia un indole penetrante e qua ci ricolleghiamo invece sempre non tanto a un'esaltazione della persia ad esempio ma alla sottolineatura di come diciamo la vera importanza delle cose sia altra e di come in un certo senso moltissimi paesi diciamo maggioranza musulmana in particolare la turchia che qui non vi ho inserito perché perché un tema di cui avevo già parlato e in più lui diciamo lo critica in maniera molto pesante a taturk per carità io non sono né pro né contro eccetera mi sembra che sia stato un attacco diciamo un po esagerato per carità è vero che con la taturk la turchia è cambiata radicalmente ha proprio fatto piazza pulita però effettivamente tentando più che altro di copiare poi diciamo la turchia moderna è sotto gli occhi di tutti quindi uno può valutare se sia stata alla fine un'azione diciamo corretta o meno però certo senza alcun ombra di dubbio ha cambiato pesantemente l'identità e questo è accaduto fra virgolette in tutto il mondo islamico cioè tutto il mondo islamico ad un certo punto si è detto che il turbante ad esempio era una cosa che era troppo orientale quindi bisognava cambiare un po come successe in russia per tipo un fatto della barba e se non ricordo essere lunga corta però diciamo che c'è stato un tentativo da tutto l'oriente onestamente ho visto di recente un video di barbero anche il giappone è vero è quello che più ha copiato ma adesso sta come al solito mettendo duemila pensieri diciamo che tutto l'oriente ad un certo punto quando si è reso conto della sua debolezza nei confronti del dell'occidente ma una debolezza diciamo che era sotto più a più era più una debolezza economico militare ma è stata concepita come una debolezza culturale e questo ha fatto sì che moltissimi del tutto il mondo orientale quindi cioè non soltanto il mondo islamico appunto vi dicevo la russia vi dicevo il giappone anche la cina sotto alcuni aspetti ha cambiato anche il vestiario tutti questi paesi sono voluti adattare ma non hanno capito soprattutto all'inizio che non era tanto diciamo un fattore culturale che per carità sicuramente può essere interessante ma non è stato determinante anche dal mio punto di vista appinché appunto l'occidente vincesse fra virgolette contro l'oriente ad esempio io vi dico che il punto determinante e cruciale è stata l'invenzione della stampa invenzione che mentre in occidente ha avuto una diffusione pazzesca in pochissimo tempo moltissimi stampavano e c'erano moltissimi libri che si potevano trovare ovunque anche dei bassi prezzi questa cosa non è mai stata fatta nel mondo islamico anzi nel mondo islamico per motivi che io non conosco e che vorrei scoprire ci fu proprio un odio anzi per tutto alla stampa per tutto quello che ne derivava quindi dal fatto che i libri fossero oggetti commerciali e questo penso che sia legato soprattutto alla figura del corano stesso che è un libro santo ed è come fosse un crocifisso in realtà l'islam non ha simboli religiosi particolari la mezzaluna che voi vedete in realtà è una cosa che si utilizza quasi più per convenzione però inizialmente non c'era neanche e l'unico vero simbolo che c'è nell'islam sono le scritture cioè proprio la calligrafia e il corano e quindi è probabilmente per quello che inizialmente come se uno dicesse non voglio produrre le croci insieme perché per carità se capita la persona giusta fantastico ma se capita la persona sbagliata è un oggetto può fare una brutta fine ma detto questo appunto anche ora qui c'è ancora qui a quale dice anche lui che è stata la scienza naturalmente non altro e penso che in realtà per il resto sia stato abbastanza chiaro poi vi dico la verità mentre sto registrando questo podcast ho fatto anche prima di altri tutti quelli che avete visto che sono usciti tra oggi e ieri di questo capitolo li ho fatti tutti insieme quindi in realtà io è tipo un'ora che parlo non sono non è affare vostro io però adesso vi saluto perché ho veramente finito quello che avevo da dire si può sviluppare si può scoprire ancora di più ancora meglio ma essenzialmente ho finito domani ci vediamo con l'ultima puntata dove finalmente mohammadi akbal avrà un dialogo con dio finalmente ce la facciamo siamo arrivati e poi domani invece ci sarà c'è dopo domani la mia lista dei desideri a tema che avete scelto voi perché in questi giorni abbiamo fatto un gioco su instagram una serie di sondaggi e la lista che appunto ha vinto sarà quella che vi mostrerò sicuramente una riduzione perché se dovesse uscire medio oriente o magreb comunque sono più di 20 libri quantomeno il magreb e più di 50 medio oriente anche libri molto tecnici quindi farò una selezione però sono libri che io desidero spero li desideriate anche voi e spero che qualcuno di voi sia così generoso da comprare una copia per lui e una copia per me perché così godiamo entrambi comunque io vi saluto alla prossima ah ma perché mi chiedi un regalo così perché il 16 era il compleanno medio oriente dintorni che fa due anni dalla prima pubblicazione del libro queste sono le classiche note quelle tra parentesi alla prossima ma davvero